Tutti quanti siamo curiosi di sapere l'esito, no? Di come andrà, diciamo, l'inaugurazione, la cerimonia di apertura, come andranno le gare, come andranno i nostri campioni, una cosa certa, ne vedremo di tutti i colori. Siamo chiamati per voi, perché siamo chiamati per tutti. È molto bello di voi, l'esperienza olympica. In bocca al lupo? Inga lupa. Ingo lupa? Ingo lupa. Siamo tutti quanti amici, quindi uniamo ragazzi. L'altra Olimpiade! Forza Pionciango 2018! Siamo pronti per la cerimonia di oggi? Siamo pronti per oggi, per la cerimonia di oggi. Allora, traduco a piacere, è molto felice, è sereno e fammi bocca al lupo a tutti quanti. Che i giochi abbiano quasi inizio! Siamo pronti per la cerimonia di oggi! Grazie!